La Regione Puglia ha ovviamente preso atto della nuova legge nazionale sul caporalato, si rende conto che le imprese pugliesi non sono ancora pronte per gestire i lavoratori migranti, li sta aiutando con investimenti importanti da milioni di euro perché facciamo dormire e mangiare i lavoratori che servono in maniera indispensabile all'agricoltura pugliese nelle foresterie dei lavoratori migranti e in questo modo tuteliamo non solo la dignità delle persone che è l'obiettivo principale ma soprattutto anche l'immagine dell'agricoltura pugliese che sovente è stata rovinata con immagini di copertina su grandi giornali europei che descrivevano il pomodoro pugliese come un pomodoro insanguinato dal lavoro illegale delle persone. Poi ovviamente vogliamo dare una mano con l'Istituto Zooprofilattico, con le ASL, con le ARPA, con le università per lavorare in modo tale da poter formulare sulla base di nuove tecnologie leggi che tutelino i prodotti italiani. Una delle battaglie principali, quella per l'utilizzo del grano italiano in Italia non si può adoperare un essiccante che si chiama grisofate per fare il grano duro ed è incredibile che i pastai italiani possano acquistare invece dal Canada il grano che viene essiccato con quel sistema non essendoci sole a sufficienza in Canada e questo ovviamente è una concorrenza sleale nei confronti dei nostri produttori e quindi siamo anche al fianco dell'agricoltura italiana contro il CETA, un trattato internazionale che abilita i prodotti esteri che sono stati strutturati anche in modo diverso, con prodotti tecniche e con legislazioni diverse, a invadere il mercato italiano. Non può essere in questi termini. La Puglia ha la tecnologia sufficiente per aiutare il legislatore a strutturare i nuovi reati in materia di agricoltura che consentano una maggiore precisione delle analisi e quindi una reale effettività delle sanzioni previste.